Sì, grazie Presidente. Sottolineo e ringrazio ovviamente tutti i colleghi. Certamente non è la mia intenzione far perdere tempo all'Aula. Avrei dovuto intervenire nella giornata di ieri in discussione generale, ma ovviamente gli impegni di questi giorni non mi hanno consentito di farlo. Quindi cerco velocemente di recuperare qui, durante la discussione, sulla fiducia di questo decreto. Un decreto che va verso la normalità e che ha come titolo il superamento delle misure di contrasto alla pandemia a seguito della cessazione dello stato d'emergenza, è di per sé una buona notizia. E quindi di questo siamo assolutamente contenti, contenti anche di votare un decreto che va in questa direzione. Poi ci auguriamo di non essere, diciamo così, perché questo è un po' il senso del mio intervento, di essere accusati di lesa maestà, se ci permettiamo di dire che comunque si è persa un'occasione. Poteva essere l'occasione giusta, alla luce della cessazione dello stato d'emergenza, di un decreto, anche di fare un quadro di misure chiare, precise, di disposizioni precise ancora da mantenere sul tema della pandemia. E invece purtroppo constatiamo che si è prodotto in determinati casi un po' di caos. Perché sul tema delle mascherine, soprattutto sulla questione delle mascherine, c'è un po' di incertezza, possiamo dirlo, sull'utilizzo. Sì, sia la mascherina sia il luogo di lavoro pubblico, no, alla mascherina è raccomandata invece se il luogo è privato. Come se ci fosse una differenza, no, il virus colpisce da una parte piuttosto che dall'altra, non lo so. Sì, mascherina nelle mense, aziendali, lavoro pubblico, no, le mascherine in ristoranti. Sì, alla mascherina, se vai dentro in una struttura sportiva, al chiuso come il Palaeuro, il Forum d'Assago, anche se c'è un distanziamento, no, la mascherina in uno stadio, 70.000 persone, tutti schiacciati, nessun distanziamento, tutti assembrati. Insomma, sono misure che lasciano quantomeno un po' di discussione. Sì, no, la mascherina per i bambini fino a sei anni, ma da sei anni in su sì alla mascherina. Sui voli con licenza italiana dovremmo mettere la mascherina, sugli altri voli europei no. Anche qui non lo so, insomma, qualche domanda bisognerebbe porsela. In classe, e parlo delle scuole, la mascherina si mantiene, poi gli stessi bambini escono, vanno al centro sportivo, vanno al bar, giocano insieme, si abbracciano, come giusto che sia, fanno tutti i loro giochi, lì la mascherina no. Insomma, la logica di queste scelte, onestamente, è un po' tutta da comprendere. In alcuni casi possiamo dire che ci sono anche situazioni al limite del ridicolo, no? Quello che poi succederà sugli aerei, alla luce anche delle scelte che ha fatto l'Agenzia Europea per la Sicurezza, sarà, direi, abbastanza particolare. Come dire, il Ministro Speranza ci ha detto che comunque decide la scienza. Non sono scelte politiche, decide la scienza. Però quando un gruppo di genitori, di associazioni, ha mandato una richiesta formale al Ministero per capire se esisteva uno studio che mettesse in evidenza rischi e benefici sulla questione legata alle mascherine imposte dai sei anni in su, è arrivata addirittura una risposta scritta da parte del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Sanità che ha detto che non è in possesso il Ministero di alcuno studio. Allora, la domanda è, certe scelte tecniche, come le chiama il Ministro, sono figlie della scienza o della propaganda venduta come scienza? In questo, diciamo così, anche caos sull'utilizzo della mascherina, è chiaro che nell'incertezza cosa fa una persona? Capita spesso anche a me. Sto entrando in un posto, ma qui si potrà, non si potrà, è supermercato, è all'aeroporto. Uno, l'incertezza, la metto su, giustamente anche per evitare magari di incappare in qualche violazione delle regole o magari anche semplicemente perché temo che la gente magari mi guardi male. Questo è quello che un po' succede. Allora, quindi, la domanda è, questo caos è figlio della negligenza, delle difficoltà operative, della burocrazia del Covid, come qualcuno la chiama, oppure è una strategia precisa per abituarci al bavaglio? Queste sono le risposte che bisogna dare, perché noi, giustamente, abbiamo sempre sostenuto le scelte che sono state fatte dal Governo. Ringraziamo anche tutto il lavoro che il Governo ha svolto. Non è semplice affrontare queste situazioni, però è anche vero che è altrettanto doveroso, da parte del Ministro competente, dare le risposte alle tante interrogazioni che anche il nostro gruppo ha fatto in questi mesi. Tante interrogazioni per chiedere, appunto, spiegazioni, lumi, le cosiddette evidenze scientifiche, spiegando anche perché, e questo lo chiediamo in questa occasione, visto che è presente anche il sottosegretario, perché tutta l'Unione Europea ha declassato il virus come influenza e invece da noi continuiamo a tenere su le mascherine. Noi abbiamo bisogno solo di sapere il perché. Spiegatecelo. Io non sto dicendo che ha ragione l'Unione Europea, abbiamo torto noi, che abbiamo sbagliato. No, vogliamo semplicemente delle risposte. E forse, chiudo, sarebbe bene cercare di concentrare l'attenzione, questo lo diciamo anche alla luce di quello che succederà poi nel corso, con il ritorno dell'autunno, di concentrare l'attenzione, come molti esperti hanno già sottolineato su numerosi giornali, su gli anziani e i fragili. Cioè, chi va protetto in questo momento, non solo adesso, ma anche dopo, sono gli anziani e i fragili. Invece, tante volte, quando siamo venuti in aula a trattare il tema dei fragili, o anche nelle commissioni, non abbiamo avuto tutta questa attenzione per favorire lo smart working, per cercare di venire incontro a certe esigenze, che servivano proprio per tutelare le fragilità, che penso che sia l'obiettivo primario che dovrebbe perseguire il Governo anche in previsione futura. Quindi ci auguriamo davvero, pur essendo ben contenti e felici, di votare un decreto che dice che superiamo queste misure di contrasto alla pandemia, anche se la pandemia, con molta prudenza, dobbiamo stare attenti, non è assolutamente stata sconfitta, però ci sono delle risposte che sono rimaste in evase e vogliamo anche capire perché l'Italia, alla fine, ha scelto, o comunque intraprende, mantiene una strada che non è propriamente simile a tutti quelli degli altri paesi europei, perché poi qua dentro si parla sempre dell'Europa, dell'Unione Europea, stiamo tutti uniti, lavoriamo insieme. Ecco, anche da questo punto di vista forse sarebbe opportuno seguire quelle che sono, quantomeno fare delle strategie, scegliere delle strategie comuni di contrasto alla pandemia e a quel punto adeguarci anche un po' a quelle che sono le scelte che vengono fatte da altre parti. Questo è il nostro auspicio e naturalmente questa è una discussione sulla fiducia, è vero che c'è l'ennesimo voto di fiducia, però comprendiamo anche chiaramente che i tempi purtroppo sono molto lunghi, tempi di lavorazione dei decreti e quindi avremmo preferito, non ci fosse la fiducia, però comprendiamo che queste scelte siano importanti e questo decreto sia fondamentale e quindi il nostro poi verrà annunciato con la dichiarazione di voto, sarà decisamente un voto favorevole al decreto, però ci tenevamo a mettere in evidenza e a fare alcune osservazioni. Speriamo di non essere accusati di lesa maestà, questo è il nostro auspicio finale. Grazie.